Abbiamo interviste del basket sotto le stelle 4.0 Siamo con una delle squadre over 18 che stanno tentando di arrivare in finale in questa terza serata Come si chiama la vostra squadra? Sventra Popere Un nome, un programma Chi è lo sventratore capitano? Sicuramente lui No, no, no Così di impatto Come sta andando ragazzi? Abbiamo vinto la prima partita all'Oventa In ora hanno cambiato un po' i gironi Quindi siamo nei gironi più duri Con due secondi e una prima Però con un'altra partita, regola Con un'altra vittoria, regola Siamo in serie finale Ci piacerebbe andarci Bene E' la prima volta che partecipate al torneo? A questo? Sì A questo qua sì Che ne pensate? Ah, è venuto bene C'è tanta gente Poi tre campi Un campo per tirare Quindi Perfetto come atmosfera Bene Noi vi ringraziamo Vi auguriamo Di arrivare Laddove sperate Forse anche di più E Vi aspettiamo Per la prossima edizione Che a breve Vi diremo le date Ma insomma Grosso modo Il periodo è sempre questo Quindi Non ho fatto la domanda All'ultimo Giocatore Qua giù in fondo Ma 60 punti Sì? Chi è che ha studiato il nome Sventra Papere? Non lo so Penso che questo ragazzo qui Nasce Nasce cinque anni fa Per un torneo Wisp 3-4-3 Da lì l'abbiamo tenuto Per tutti i tornei Che abbiamo fatto 20-50 Bene Ha portato bene Oppure Ma dai Siamo sempre difesi bene Sventra Papere Sono sempre stati tosti Da affrontare Nonostante Sempre parti da underdog Però Sempre dimostrato Di saper fare Bene Grazie ragazzi In bocca al lupo E alla prossima intervista